Ciao, anche questa settimana per la rubrica in collaborazione con Trovo Lavoro ho un brevissimo video consiglio per te che spero ti sarà d'aiuto. Quando decidi di rispondere ad un annuncio di selezione, di ricerca personale, allora innanzitutto leggi bene l'annuncio. E poi se decidi di rispondere, indica nella tua lettera di presentazione quelle che sono, fra le prime cose, fai subito emergere quelle che sono le cose essenziali che nell'annuncio vengono richieste. Quindi facciamo un esempio, mettiamo che nell'annuncio si è scritto che i requisiti essenziali sono l'inglese fluente e la vicinanza al posto di lavoro. Fra le prime cose dovrai far emergere che hai l'inglese fluente che vive vicino al posto di lavoro. Questo farà sì che la tua candidatura passi, diciamo, come prioritaria da parte del recruiter o da parte dell'azienda. Sono convinta che questa cosa ti aiuterà a far emergere il tuo curriculum. Bocca al lupo!